oggi abbiamo come modello il fantastico Tommy vedrete che lui è un po' birichino sul tavolo mi piace molto muoversi però insomma diciamo è quello che capita sempre in tollettatura quando si passa la macchinetta su un cane a pelo liscio è importantissimo seguire il verso del pelo per evitare di fare dei segni pettino tutto in fuori vedete ho una prima una prima parte che già ho tagliato da quel punto me lo prendo come punto di riferimento e vado a tagliare dritta prendendo come punto di riferimento l'osso del cane eccolo qui il nostro tommino pronto